Confindustria, pilla a zero per il 2019, Italia ferma, è allarme in recessione, il lavoro non cresce, necessario reagire, visco serve una strategia chiara per il calo del debito. Di Maio negli Stati Uniti puntiamo su export e investimenti, Tria contrastare il rallentamento con ogni mezzo ma il debito è sotto controllo, le opposizioni, disastro annunciato. Papa Francesco, in un'intervista una ingiustizia bloccare la nave Open Arms all'udienza del mercoledì, dice il cibo non è proprietà privata, pensiamo che ha fame nel mondo. A Prato è arrestata ai domiciliari la donna che ha avuto un figlio da un alunno, quindi c'è in indagato anche il marito che ha riconosciuto il figlio e il PM sapeva che non era suo. Il cinema italiano al Quirinale, in occasione di Davide Di Donatello, questa sera le premiazioni, Mattarella, la cultura e economia, il cinema elemento vitale delle nostre città. Buongiorno dal Tg3, crescita zero per quest'anno, investimenti privati in picchiata sono le nuove proiezioni che arrivano da Confindustria per l'economia italiana. La recessione potrebbe essere evitata grazie all'export ma gli industriali chiedono al governo un salto di qualità.